È un'iniziativa che ormai conoscono tutti, bella, che si rinnova perché coinvolge i ragazzi, fra l'altro sono sempre più pronti rispetto a un'esperienza del genere. E sempre più motivati, quindi intanto va subito un grande ringraziamento all'Associazione del Camperto che da anni segue questo progetto e tutti i bambini, le insegnanti che partecipano a questo progetto. È un'esperienza straordinaria per i ragazzi perché diventano ciceroni per due giorni praticamente a illustrare le bellezze, i tesori della nostra città che molto spesso sono sconosciuti proprio ai salernitani. E quindi l'invito è a tutti di andare, di partecipare e di farsi guidare dall'entusiasmo di questi bambini che hanno studiato praticamente tutto l'anno con la guida, come dicevo prima, dell'Associazione del Camperto in particolare di Paola Valitutti, della dottoressa Paola Valitutti e degli insegnanti di questi bambini che spesso fanno la guida anche in lingua straniera, anche in inglese. Quindi molto bello, sono guide gratuite e l'invito è proprio quello, ripeto, anche per motivarli questi bambini perché conoscere la propria storia, la storia della propria città è importante per tutti, in modo particolare per i bambini, per l'acquisizione di un orgoglio di appartenenza ma anche per acquisire quegli elementi che sono fondanti per la tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e storico del proprio territorio. È il ventisettesimo anno, la scuola adotta un monumento, nasce nel 92 e il comune di Salerno ha aderito da subito e non ha mai saltato un'edizione, tant'è che fumo premiati e invitati pure al Quirinale. Sì, tutte le scuole, non solo bambini, abbiamo dalle scuole materne fino a quasi tutti i licei di Salerno, ognuno nel proprio monumento, pronti ad accogliere salernitani, turisti, le famiglie, insomma chiunque voglia dare soddisfazione e visitare i monumenti della città di Salerno. Quest'anno, noi ogni anno abbiamo una novità, quest'anno sul gruppo la scuola adotta un monumento Salerno, ogni scuola ha caricato un video di presentazione del lavoro ed un invito a andarli a visitare. Quindi se vi collegate al gruppo la scuola adotta un monumento Salerno, iniziate ad avere un'anteprima, ancora stanno caricando, non ci sono proprio tutti i video, però insomma già c'è una buona parte visibile e quindi potrete vedere il lavoro, che è un lavoro che dura tutto l'anno, non è solo questa, questo è la parte finale di un lavoro che si svolge a partire dal mese di ottobre. Io anzi approfitto per ringraziare pure le insegnanti che si dedicano a questa attività con grande abnegazione. Ci sono i monumenti coinvolti dall'iniziativa e se ci sono anche i numeri dei ragazzi impegnanti? Allora, i monumenti sono tutti, tutti. Non è rimasto fuori credo proprio nulla al castello, anche fuori, diciamo, dal circuito del centro storico. I bambini impegnati, i ragazzi, diciamo, gli studenti impegnati dipende un po' dalle scuole. Noi come indicazione diamo un gruppo classe, ossia una 25-30 per turno, però ci sono delle scuole dove ne portano anche 100 alternandosi la mattina del sabato, il pomeriggio, perché tutti vogliono partecipare. Quindi l'entusiasmo è grande e sui numeri, insomma, sono tanti, ma non li conosciamo perché poi noi diamo delle regole, ma ci fa piacere che poi sia libera la scuola di gestire la cosa.